La crocifissione di Cristo Nel prelevare dall'altare maggiore, per motivi di restauro, la tela di San Giorgio, risalente al XVII secolo, è stata rinvenuta una porzione d'affresco, a vista, che ha permesso di retrodatare l'origine della Chiesa alla fine del XV secolo, anziché al 1567 come fin qui attestato dai documenti. L'affresco, raffigurante la crocifissione, appare leggermente decentrato rispetto all'attuale absite, a prova che il presbiterio in origine fosse molto più basso dell'attuale. Sotto il crocifisso sono rappresentate le figure di Maria, San Giovanni e la Maddalena, ma restano parzialmente nascoste dal coro ligno, di fine 600, che arreda la parte inferiore dell'abside. L'opera è arricchita da tre angeli che raccolgono il sangue del Cristo in calici. L'affresco appare straordinariamente ben conservato, per questo, dopo il restauro, la tela di San Giorgio, opera del Benigni, è stata collocata su un nuovo telaio in alluminio, apribile a libro tramite cardini, per consentire la vista dell'affresco.